Un porto sempre più verde, sempre più infrastrutturato, sempre più ecocompatibile, un porto sempre più smart, con parola d'ordine la digitalizzazione. Anche un appello da spediporto alla Port Community, a questa comunità portuale sempre più unita verso questi obiettivi che dovrebbero essere comuni. Lo abbiamo sposato, lo sposiamo, lo condividiamo, spingiamo in questo senso. È importante supportare l'attività dell'autorità di sistema portuale che ha ingenti capitali da spendere, da mettere a terra, ante PNRR, visto che ora va di moda parlare. Direi che il Presidente Pitto ha sintetizzato molto bene nel suo intervento quello per cui tutti dobbiamo prenderci la responsabilità di lavorare. E non sempre un po' questo mugugno di tante parti, un po' locali, ma questo non va bene, non va bene. Bisogna avere coraggio, investire, il mercato è positivo per tutti, l'economia ha al netto delle preoccupazioni, da un lato post-Covid, dall'altro invece forti per gli effetti della guerra. Però un po' di coraggio, un po' di entusiasmo, siamo imprenditori. Grazie. Grazie.